Buonasera mio caro nuovo amico Stefano Zelmo e un saluto dalla Spagna. Bene, io ti dicevo che sono stato il primo allievo di Alfredo Krauss negli anni 1972-1973-1974. Per tre anni ho lavorato con lui, ho imparato la sua tecnica e ho viaggiato con lui e con la sua moglie per l'Italia, dove doveva andare per cantare i grandi teatri alla Scala, a Napoli, a Trieste, a Torino eccetera, a Londra come no, Lisbona. Ebbene, io voglio cantarti ai miei 71 anni l'aria di Cherie. Io sempre sono stato un tenore lirico leggero quando ho cominciato a studiare con Krauss lirico leggero e con il tempo la voce si è fatta più rotonda, più... Però canto anche l'aria di Rigoletto di Don Pasquale, Favorita eccetera, e mi piace tanto cantare benissimo. Puccini è una pazzia per me, Puccini è un grandissimo musicista. Giordano, Cirea, tutti i grandi musicisti italiani. Bene, io voglio cantarti l'improvviso dalla scenia. Vediamo ora. Colpito qui in manete, ovvio nello suo cielo, il più puro palpitar dell'anima. la pazzia per la connessione, le loro canzioni... ...quol ventre del mani a scuola, le loro canzioni ci siano una verità, quale poema è la parola amore, qui causa di scherno. Quindi all'azzurro spazio guardai profondo E ai prati colmi di bione, io beva l'oro e il sole E folgono a madono il mondo A lei alla terra mi immane tesore E a lei serviva di scrivere E a lei alla terra mi affronte Veniva una carezza viva Un bacio Gridai mi intonnamor Padre a te amo tu che mi baci divinamente l'enna O patria mia E vogli pien d'amore e pregar Barcai in una chiesa alla soglia L'amprete delle niti e dei zanti E nella vergine accumula baloni E al sordo vecchio Un tremolo veniardo in vano Chiedeva pane e in vano E stegna la mano Marcai degli abiti di luscio Un uomo di canonia La besta di ando al suono E nell'ario appena sazia E contro addio scagnata E contro gli uomini Le lacrime dei figli In cotanta miseria La patrizia prole Che fa? Sono l'occhio vostro Sprime umanamente Qui un guardo di pietà Come ho guardato a voi Dici come un angelo E nisi E con la bellezza della vita Ma appoglia le vostre favore Un novello dolore Ma colto in pieno petto Non mi sprezzi la tendetta Unite Non conoscete Amore 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 Divino Nanno Spermire Del mondo Anime Vita Nell'amore Bene, io faccio questo perché mi sento meglio la voce, sicuramente è una pazzia mia perché la voce esce fuori per la bocca, però così io mi sento meglio e posso fare un allarme e mi suona bene fuori. Bene, caro amico Stefano, è un piacere salutarti e spero che possiamo parlare di canto di tutti i grandissimi cantanti, non soltanto uomini, anche le donne meravigliose e per me è la prima di tutta la calda che ho conosciuto personalmente a Milano all'anno 1973, l'ho conosciuto, ho parlato con lei gentilissima, ero io un ragazzo di 22 anni. Bene, parliamo comunque. Ciao!